ecco ora ci provo non l'ho mai fatto vediamo un po come viene scusate l'amatorismo facendo dei segni drammatici certo punto è morta ecco ora Grazie a tutti. No. 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 ma la sorpresa ci sarà quando si asciuga perché si vedono i segni meglio comunque ho finito lì ora tolgo la macchina per guardare sopra